Buongiorno a tutti gli altri, io sono Paolo, con Nicola adesso vi parleremo di una cosa pazzesca, è un prodotto che abbiamo mediato nei migliori orari di ispirazione, dalle 2 alle 5 e ai mesi di due del prossimo. Il prodotto si chiama Stadento. Stadento, cos'è? Una persona più un dispositivo digitale, mentre cammina, cosa produce? Tag, spacca la testa perché non guarda davanti dove sta andando, perché sta guardando il suo prodotto e boom, prende il muro. Neoclassico, no? Sarà per gli adattivi, a me mille volte fa questo cuore. E allora, cosa succede? Che c'è sempre quel vecchietto, quel romarello che ti dice Stadento! Ma che giusto? E qui l'idea è paziente, clamorosa, ideata e realizzata. E qual è questa idea? Prendiamo la persona, ti diamo un cappello con una cosa gigante dentro e la mettiamo in testa. E vediamo cosa succede. Adesso ricorda mi collegherà al Matrix. Il design è quello che è, però non ci si lavora. Ho più a logo. Allora, Paolo sta passeggiando con il suo device e non vedete dove va. A un certo punto trovo un cappello che sono io e lui suona, il cappello sta suonando. Adesso ve lo faccio sentire. Come stanno facendo? Funziona! 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 Allora, lo faccio sentire. Quando ci vicino a meno di un metro da un ostacolo, il cappello inizia a suonare. Questa è la mia direzione, fantastico. Quindi che succede? Che succede? Io a suonare quello che mi sono passato. Esco dal Matrix, mi tolgo gli occhiali e quindi sono contento perché non mi sono spaccato la testa e perché non c'è quel vecchietto lì e mi sono statento. Comunque, questa è la parte giocosa. In realtà, questo cappello fa molto di più. Ovvero, vuole essere un stimolo anche per quelle persone, non solo ragazzi, ma persone un po' disagiate, magari di povedenti, di giri, di quello che è, che vogliono uscire ma magari non sempre hanno l'occasione. Magari i bambini, rispondono più a loro perché non sempre hanno un cane, un bastone che li guidi. Questo vuole essere un simpatico modo per portarli fuori, giocare e permettergli di stare insieme agli altri. Ovviamente, ragionando un po' su design, ma questo, l'abbiamo portato di notte e finiamoci i giorni. State inizio!